Siamo con l'assessore alla famiglia e alle pare opportunità Edi Cicchi, una nuova iniziativa della Lega Calcio di Sarebbi in favore delle iniziative per la propria città. Sì, è un'iniziativa molto bella che quest'anno sta prendendo oggi in considerazione il rapporto tra le donne, le giovani madri, i bambini. Allora abbiamo scelto questo asilo nido, Chilipupu, che è un asilo aziendale che offre la possibilità alle mamme di rientrare sicuramente al lavoro in tempi importanti. Ed è nota anche la sensibilità dell'azienda nell'aver dato vita a questo progetto che sicuramente è importante non solo per le mamme che lavorano qui ma è aperto anche alla città, quindi anche il comune di Perugia usufruisce di questo servizio.